Un pari che lascia le due squadre a braccetto con 16 punti in piena zona playoff. Un pari tutto sommato giusto che seppur a ritmi violate non è stato privo di emozioni. Nel posticipo dell'infrasettimana del girone H di Serie D a De Lulivi, Andri e Vitonto hanno dato vita ad una gara equilibrata e ben giocata da entrambe le parti. Dopo i primi minuti di studio il primo squillo di marca nero verde nasce da un cross di Patierno da destra. La palla arriva a Turitto che conclude senza trovare la porta. La risposta dell'Andria si materializza al quarto d'ora e porta alla firma di Cristaldi. Il diagonale del centroavante argentino si spegne sul fondo. Con il passare dei minuti cresce la Fidelis. Al ventesimo buona opportunità per Aina che non controlla bene la sfera in aria favorendo l'uscita di Figliola. Quattro minuti dopo sempre Aina protagonista. Il numero 11 serve Bortoletti che ci prova al volo. Palla sull'esterno della rete. Ancora Andri in avanti alla mezz'ora. Forte di testa sugli sviluppi di un corner non trova la porta. Subito dopo il match viene sospeso per 6 minuti a causa di un problema all'impianto di illuminazione. Fino all'intervallo non accade più nulla e si va a riposo senza grossi sussulti. In apertura di ripresa Bitonto più intraprendente. Il primo a provarci è Patierno che non trova la porta su cross di Cappellare. Poi è campo reale a tentare la soluzione della distanza trovando la risposta di Zin Follino. Ed infine è ancora Patierno sempre su cross di Cappellare a confessionare la terza occasione nero-verde nel giro di pochi minuti. Palla anche questa volta sul fondo. Subito il buon inizio di secondo tempo degli ospiti, Landria prova ad alleggerire la pressione con un tentativo di Adamo da fuori. Figliola controlla. Poco dopo l'ora di gioco Pizzulli si gioca la carta Picci. L'attaccante Barise prende il posto di Patierno mentre Faccini subentra a Padulano. Al 65esimo altro tentativo dalla distanza per il Bitonto. Zaccaria non trova lo specchio. Dall'altra parte ben più pericoloso è il bolide di Piperis. Figliola vola ad avviare in corner. Nell'ultimo quarto dura le squadre provano a superarsi. Al 75esimo Picci si libera bene al tiro ma non inquadra la porta. Poi è Landria a costruire due occasioni con Aina e Adamo che vanno via in slalom e calciano da destra senza però trovare la via del gol. L'ultimo sussulto arriva nel terzo dei quattro di recupero concessi dall'arbitro e lo porta Picci. L'acrobazia dell'attaccante Barise termina tra le braccia di Zinfollino. Finisce 0-0 e forse è giusto così.